Messinese deve dimettersi perché non ascolta nessuno, perché realizza politiche contrarie alla volontà degli elettori che lo hanno eletto, perché continua a seguire chi ha distrutto questa città. Lo chiediamo da mesi e lo ripetiamo con più forza oggi. Di fronte alla resa di un'amministrazione che non ha nessun programma e non segue nessuna politica, le dimissioni sono un atto di rispetto per i cittadini. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attacca il primo cittadino e chiede il momento che lascia la poltrona di sindaco. Per i pentastellati non serve negare l'evidenza perché l'evidenza parla da sola. Il vice sindaco Simone Siciliano, dicono i grillini, oramai unica voce autorizzata a parlare per l'intera amministrazione, dichiara che la rinuncia di Eni a realizzare, prezioso K, è una volontà dell'amministrazione, una scelta precisa di tutela ambientale, addirittura si aspetta le lodi da parte della città. L'evidenza, rincarano i grillini, è una prova sufficiente per smentire il vice sindaco mai eletto da nessuno. Esattamente un anno fa presentava al Consiglio Comunale il suo accordo di programma non condiviso, diceva la città, che verrebbe realizzato quanto previsto nel protocollo del 6 novembre del 2014. Il Movimento 5 Stelle rimaneva coerente al suo programma, mentre il vice sindaco andava sulla stessa strada di Eni e del Partito Democratico che avevano firmato il protocollo. L'amministrazione messinese, dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, ha sempre sostenuto il protocollo dicendo che andava portato avanti. Tanto che durante il referendum sulle trivelazioni, il sindaco messinese, espulso per violazioni varie dal Movimento 5 Stelle, dichiarava che non tutte le trivelazioni sono uguali, come a dire che prezioso K era meglio di altre. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto alla città che Eni faceva l'ennesimo bleff, che per l'ennesima volta non si realizzava nulla, se non mera ed inutile progettazione, soldi spesi per studi di fattibilità che alla città non lasciano nulla e che fanno contenti solo coloro che realizzano gli studi e il progetto, visto che poi vengono pagati, si spera. Il vice sindaco nega il suo stesso comportamento, le sue politiche e le sue scelte, rinnega se stesso di fronte alla triste verità del fallimento. Nel più duro trasformismo politico cambia faccia e cambia gioco. Prima si ha prezioso K, ora prezioso K non si deve fare. L'amministrazione messinese, chiudono i grelini, elenca numeri e carte, ma l'unica verità è che continua a mentire alla città, che continua a seguire le politiche del colosso petrolifero.